Tutti i prodotti della linea Casa Ecologica Flora si aggiudicano quest'anno il premio Natura 2017. Questo riconoscimento è assegnato dal comitato scientifico di Green Intelligence nel corso di una ricerca di mercato in cui sono stati coinvolti oltre 10.000 italiani che hanno espresso il loro apprezzamento per i prodotti della linea Casa Ecologica. La linea comprende 3 aria spray e 2 miscele per l'igiene della casa che combattono l'inquinamento e purificano l'aria. 5 prodotti premiati sono a base di oli essenziali puri 100% che in sinergia tra loro svolgono un'azione purificante, rinfrescante e deodorante per i nostri ambienti di vita quotidiana, per la casa, al lavoro e in macchina. Lasciati travolgere l'aggradevole e benefico aroma degli oli essenziali distillati da fiori, fogli e frutti di lavanda, menta, eucalipto, cannella, limone e altre ancora, provenienti da coltivazioni biologiche e biodinamiche controllate. Richiedili in erbolisteria, farmacia e centri di alimentazione naturale.